Sabrina Salerno ospite oggi di quel bellissimo programma che si chiama Oggi è un altro giorno ha raccontato l'esperienza ballando con le stelle, ovviamente non era da sola infatti c'era anche il buon Samuel Peron hanno raccontato questa bellissima esperienza televisiva dove hanno letteralmente ballato e incantato tutti e proprio Sabrina Salerno avrebbe confessato che non è stato facile del tutto per lei fidarsi di Samuel sono sempre stata indipendente, abbastanza autonomo, avere fiducia e farmi portare nel ballo non è stato così facile queste le parole e il ballerino ha confermato diciamo così le parole proprio di Sabrina Salerno e Sabrina avrebbe ammesso di essere piuttosto autocritica verso se stessa ovviamente parlando e poi ha ricordato l'abbandono dell'amato padre che non l'ha più voluta, che non l'avrebbe mai voluta riconoscere da come si legge sul web, non sono io a dirlo insomma è stata una Sabrina Salerno che si è aperta a 360 gradi parlando della sua vita una vita ovviamente difficile, burascosa secondo la mia opinione ma nonostante tutto si riesce anche a trovare un brandello, se così può essere definito, di sorriso attraverso la vita di quella che è appunto l'attuale Sabrina Salerno detto questo, grazie a tutti, io vi ho fatto una sintesi molto 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 breve di ciocchi sarebbe stato detto oggi e un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1 ricordo che esiste anche la versione di Rai 1 in HD dove appunto si può vedere meglio la tv dove si può vedere meglio questa emittente televisiva il video termina qua, iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentatevi mi raccomando ci vediamo al prossimo video, grazie